carissimi amici e amiche bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi peccato originale l'origine di ogni male è il momento di cominciare a trarre un pochino di conclusioni sintetiche da tutto il percorso che abbiamo fatto quindi fare un pochino una ricapitolazione globale della situazione e andare verso le conclusioni di questo ciclo di catechesi quindi ci vorranno probabilmente non so se riesco ad esaurire la sintesi con una sola puntata quindi potrebbe darsi che diciamo questo questo flyover sintetico duri un paio di puntate vediamo un po in ogni caso è assolutamente necessario perché altrimenti non 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 traiamo diciamo così frutto da tutto questo grande lavoro che è stato fatto e io mi permetto di ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo lavoro a partire assoluto dai padri della chiesa che hanno riflettuto e pensato a partire da nostro signore che ha che ci ha donato la liberazione i padri della chiesa che hanno riflettuto il lavoro immenso che ha fatto rodolfo barontini di andare a cercare le fonti e rispolverare questa tradizione caduta nel dimenticatoio come sappiamo per il peso che hanno avuto in occidente sant'ommaso ne li parleremo in questo in questo flyover e sant'agostino ringraziamo maria valtorta perché maria valtorta con le fatiche che si è sobbarcato nello scrivere così tanto ci ha lasciato veramente delle perle preziose e ringraziamo anche ricardo ricardo l'autore del testo di di tener amata e chi l'ha tradotto in italiano che ci ha concesso di dare uno sguardo alle chiamiamole così alle manifestazioni dell'amore escatologico e questo come vedremo adesso nel in questo quadro sintetico ci dà qualche spunto per comprendere come presumibilmente nello stato protologico e questo ci sarà già arrivato qualche padre della chiesa cioè stato protologico protos in greco significa primo cioè al momento della creazione prima della colpa ci sarebbero stare delle forme di manifestazione di amore molto corporeo e molto più belle ma evidentemente non quelle sessuali legate alla concubiscenza allora facendo una sintesi questo ciclo di catechesi è nato dalla volontà di approfondire questo discorso che è un tentativo di lettura del peccato originale allo scopo evidentemente di comprendere tutta quanto una serie di verità che possono essere meglio illuminate da una tale comprensione come spiegato all'inizio di questa di questo lungo ciclo che che oggi ci sia come dire da parte di qualcuno speriamo pochi un atteggiamento abbastanza rilassato ecco riguardo certe tematiche se uno vede la tradizione bimillenaria della chiesa capirà come sulla tema impurità c'è stato sempre un rigore assolutamente estremo cioè la degradazione sociale a cui oggi siamo giunti per la verità come dire non sufficientemente impedita diciamo così da un'opposizione da parte di chi dovrebbe continuare chiaramente a predicare anche su questo il vangelo la sana dottrina senza sconti sotto tutti i punti di vista è qualche cosa che nella storia della chiesa del cristianesimo non si è mai visto basta semplicemente andare a leggere si trovano anche online per chi volesse andare a approfondire i manuali di morale su cui hanno studiato preti e seminaristi fino non dico al medioevo ma a 70 anni fa si rimane come dire impressionatissimi ma come a me è una cosa che sembra così naturale spontanea sì certamente un pochino scabrosetta un pochino violenta ma tutto sommato ecco come la sessualità è oggetto come dire di un rigore così estremo abbiamo detto in una puntata che se uno vuole comprendere la dottrina cattolica immediata quindi capisci quello che la chiesa insegna e poi per esclusione trai facilmente tutto ciò che è illecito cioè un'enormità di cose quasi tutto basta che tu pensi che due battezzati possono esercitare la sessualità solo dopo il sacramento del matrimonio nonostante che attenzione il matrimonio come Gesù stesso spiega non è stato istituito da lui e nemmeno dice sai lui ha santificato una cosa che avevano istituito gli uomini no il matrimonio è stato istituito da Dio e nello stato di giustizia originale l'uomo per questo lascerà sua madre suo padre si unirà saranno una carne sola questo viene detto prima del peccato originale e quando Gesù fanno la questione del divorzio Gesù non dice non ci si può divorziare perché io tra poco istituisco il sacramento del matrimonio che sarà indissolubile no ma li riporta da principio non fu così ora se è fondato nel diritto naturale perché due battezzati devono per forza avere il sacramento perché due battezzati non possono sposarsi al comune faccio il matrimonio se il fondamento del matrimonio quindi dell'unione tra l'uomo e la donna è nel diritto naturale e lo è perché necessariamente tramite la forma sacramentale e attenzione se non si fa così si è tuttora oggi anche se queste cose non si possono più dire pubblici concubini e si sta in stato di peccato mortale come mai quindi ci vuole un sacramento la sessualità è soltanto quella ordinata Gaudium et Spes parla di sposi che si uniscono in modo onesto e umano onesto significa compimento degli atti coniugali aperti alla vita perché questa è l'unica forma lecita di esercizio della sessualità e tra l'altro umano lo si capisce aguzzando un pochino l'intelletto cioè gli esseri umani si uniscono non come si uniscono gli animali volendo sempre osservare un vocabolario come dire pulito come necessario in questi argomenti un po' scabbrosetti gli esseri umani si uniscono guardandosi in faccia se uno va a rispolverare i famosi manuali di cui ho parlato vedrà con quanti dettagli vengono spiegate queste cose ma uno oggi in molti oggi deridono la morale sessuale tradizionale come affrontata nei manuali classici come se fosse una ridicolaggine io questi atteggiamenti mi dispiace amici miei non li condivido non li ho mai condivisi non li condividerò mai perché io quando mi ritrovo dinanzi a cose di questo genere e noi quando ci troviamo dinanzi a testimonianze specialmente poi ecclesiali o di santi o di fior di autori non possiamo dalla nostra arrogante superbia dei super uomini del ventunesimo secolo farci la risatina e dire ma guarda questi che stavano a scrivere che razza di gente è che ridicoli che sono io non ci riesco a fare una cosa di questo genere io se vedo una cosa del genere mi chiedo come mai erano giunti a queste conclusioni e io tutte queste cose me le sono sempre chieste quando tanti anni fa lessi gli iscritti di Maria Valtorta e vidi quello che dicevano rimasi folgorato ho detto tanti dici mamma mia ma se questo fosse vero questo spiega una montagna di cose come poi spiegai qualche tempo dopo entrai in contatto tra i tanti autori che abbiamo studiato adesso li ricomincerò a percorrere con alcuni scritti di San Giovanni Crisostomo in particolare quelli tema classico di San Giovanni Crisostomo che affermava essere la verginità la condizione dell'uomo prima della colpa d'origine e questo chiaramente mi corroborò perché diceva Maria Valtorta è una vivazione privata certo San Giovanni Crisostomo adesso lo rivedremo è uno dei quattro padri è l'equivalente in oriente di quello che per noi sono Gregorio Ambrogio Girolamo e Agostino è uno delle quattro colonne della chiesa greca della chiesa non greca si chiamiamola greca orientale cioè un'autorità indiscussa e allora sulla base di queste cose cercai di costruire un po' qualche ciclo di qualche intervento catechetico sporadico però avendo una quantità di informazione estremamente limitata poi mi accorsi anche da alcuni commenti che leggevo che effettivamente il discorso doveva essere approfondito e come sapete a un certo punto credo che Rodolfo Barontini mi contattò proprio perché aveva sentito una di queste catechesi molto imperfette appunto perché limitate alla scarsa acquisizione didattica avevo io ricordavo bene dagli studi che questa cosa era abbastanza diffusa nel pensiero patristico ma dico come faccio andammi a ritrovare cioè non c'è più tempo adesso che sono diventato cioè ci vorrebbe uno studio ci vorrebbe che uno non fa nient'altro per un anno comincia ad andare in giro per le biblioteche scarta bella sto mondo e quell'altro e poi lo trovo qualcosa come quando stavo facendo la tesi dottorale ma allora non c'era niente da fare oltre a quello adesso non è più così e mi manda il suo libro quando ho visto sto libro dico accipicchia me lo sono divorato o me lo sono e lì dico accipicchia accipicchia questo è il fondamento teologico dogmatico patristico di quello che scrive Maria Valtorta ed è così e allora piano piano ha maturato l'idea di allora riprendiamo questo discorso però non facciamo la catechesina di un'oretta facciamo un ciclo perché questa cosa bisogna sviscerarla bene adesso siamo giunti alla conclusione ecco e quindi dobbiamo fare un percorso questo è come è come è nato ho dovuto trattare anche in un paio di puntate la genesi biblica di Don Guido Bortoluzzi perché sempre chi vedeva quei cicli di catechesi quelle scusate catechesi sporadiche sul peccato originale diceva no padre le deve leggere Don Guido Bortoluzzi no padre le deve leggere Don Guido Bortoluzzi no padre le deve leggere Don Guido Bortoluzzi alla fine non ho letto questo Don Guido Bortoluzzi d'accordo e immediatamente come ho fatto notare e come ribadirò mi è parso una cosa come dire incongruente non accettabile e tra l'altro come dire con dei dati come dire divergenti sia dalla genesi biblica quindi dal dato rivelato che deve comunque essere almeno sostanzialmente preservato non puoi tu andare a riscrivere un'altra un'altra genesi e nemmeno con quello che scrive Maria Valtorto lo vedremo in questa sintesi perché ho ritrovato insomma delle citazioni spero che venga abbastanza esaustiva ecco fatte queste premesse necessarie cominciamo a ripercorrere allora il cammino che abbiamo fatto è stato questo qui andare a presentare l'argomento cominciare a vedere i padri della chiesa presentare la dottrina della chiesa per quanto riguarda il discorso sessuale e dopodiché seguendo il Barontini fare tutta la segna patristica prima sui padri della chiesa poi sulla sagra scrittura e poi sui pochissimi e indiretti riferimenti come abbiamo visto magisteriali per poi condividere le conclusioni del Barontini e poi aprire il capitolo Maria Valtorta abbiamo visto in due o tre puntate adesso non ricordo forse quattro forse cinque adesso non non c'ho davanti il quadro il pensiero di Maria Valtorta molto articolato al riguardo un paio di puntate dedicate alla presentazione critica della Genesi Biblica di Don Guido Bortoluzzi e poi una piccola appendice resasi necessaria per conoscere sulla base di un'altra rivelazione privata molto bella a mio avviso che è appunto il libro di Tenera Mata al di là del tempo e dello spazio di adesso ve lo dico chi è perché ci ricchia l'autore perché non si possono lasciare queste cose così Riccardo Perez e Hernández mi ricordavo Hernández però Sender Hernández ha anche un cognome abbastanza diffuso Riccardo Perez e Hernández dove quest'anima beata spiega alcune manifestazioni dell'amore anche molto fisiche tra glorificati nell'ambito dell'esercizio della gloria e del godimento della gloria accidentale quindi adesso ricominciamo ad andare a vedere in sintesi cosa hanno a cosa sono arrivati i padri della chiesa allora le conclusioni sintetiche di tutto quanto il lavoro dei padri portavano a quattro punti fondamentalmente numero uno la condizione originale dell'uomo era definibile come angelica e virginale una condizione angelica di verginità che non avrebbe dovuto essere persa questo dato è indirettamente confermato dalla verginità che hanno voluto intemeratamente mantenere Gesù e Maria e che è un dato incontestabile che Gesù e Maria abbiano voluto essere vergini non la condizione originale virginale però una cosa di questo genere capite che pesa una lettura del peccato originale come ricerca di un piacere sensibile i padri della chiesa soltanto uno anzi per la verità due san zerone di verona e san clemente alessandrino identificano il peccato originale con l'atto sessuale ma sono molti che quando parlano dell'albero proibito fanno riferimento al piacere e comunque considerano tutti e qui la chiesa anche ha sempre abbracciato questa dottrina che la concupiscenza è una conseguenza diretta del peccato originale sulla base del fatto che l'unione fisica tra Adam ed Eva viene descritta all'inizio del quarto capitolo del libro della Genesi quindi dopo che il peccato originale è stato commesso la maggioranza dei padri afferma che l'unione coniugale l'unione coniugale vuol dire che gli esseri umani nascono attraverso la rivoluzione sessuata così come noi oggi nasciamo e non c'è altro modo fu istituita da Dio solo come conseguenza del peccato originale non però il matrimonio cioè c'è una distinzione tra il matrimonio e l'unione coniugale perché il matrimonio fu istituito in stato di natura integra l'unione coniugale dopo il peccato originale come sua conseguenza conseguentemente più di qualche padre avanza l'ipotesi che c'era un misterioso piano A da parte dell'Altissimo che insieme alle tante cose perdute col peccato originale è andato perduto quindi una modalità misteriosa di generazione senza unione fisica o quantomeno senza concupiscenza progettata originariamente da Dio questa è la sintesi andiamo però adesso a ripercorrere anche qualche sinteticissimamente ovviamente qui adesso vado davanti a dare un'occhiata al volo cioè che dobbiamo comprendere che le cariche sono state tante no tanto se chi ascoltasse direttamente questa lezione volesse poi andare ad approfondire le catechesi ecco del sui padri della chiesa sono diverse sono almeno una quindicina quindi non è che sono tanto poche adesso qui le sintetizzerò in non molti minuti no allora cominciamo da Cirillo di Alessandria da San Cirillo Alessandrino scusate non ci rilassero da Alessandria Clemente Alessandrino il quale affermò che il peccato originale consistette nel primo atto sessuale ma lui disse che questo sarebbe stata una condizione presente nella condizione di natura integra ma che la colpa degli uomini quindi di Damaideva sarebbe stato compierlo prima del tempo cioè prima che Dio li autorizzasse questo è quello che scrisse è la prima grande uscita poi abbiamo il grande Sant'Atanasio cito soltanto gli autori più rilevanti che afferma che ci sarebbe stata una misteriosa forma di generazione umana senza l'intervento del matrimonio inteso matrimonio in questa espressione come coniugio quindi come atto coniugale se non fosse stato commesso il peccato originale quindi il primo a parlare di questo piano A e di una forma riproduttiva non legata alla sessualità è Sant'Atanasio e su questo lo avrebbero seguito autori del calibro di San Gregorio di Nissa e di San Giovanni Crisostomo cominciando da San Giovanni Crisostomo negli Omenie sulla Genesi afferma chiaramente che la condizione si dice tecnicamente pre-lapsaria cioè prima del peccato originale era la verginità e l'unione sessuale per procreare è concessione divina al genere umano divenuto mortale perché potesse continuare ad accrescersi sempre dice queste cose nell'Omenia sulla Genesi prima che questo accadesse Adam e Eva nemmeno ci pensavano a una cosa del genere afferma e la famosa frase la verginità conviene ad un re il matrimonio a uno schiavo rileggo qualche passaggio di San Giovanni Crisostomo perché penso che sia interessante andarlo a rivedere forse sarebbe anche il caso andare a rivedere quello che scrive Sant'Atanasio il passaggio del commento al Salmo 50 versetto 7 dice in che modo dicono così tante miriade di uomini sarebbero generate ed io di nuovo ti chiedo poiché questa porra che ti agita fortemente persiste in che modo Adamo e in che modo Eva sono venuti a resistenza senza l'intervento del matrimonio questo perché aveva scritto in principio se Adamo ed Eva ubbidendo i suoi comandi avessero dominato sull'albero del piacere attenzione già l'introduzione subito dell'albero del piacere non sarebbe mancato il modo attraverso il quale il genere umano si sarebbe accresciuto San Giovanni Crisostomo quindi Omelie sulla Genesi Adamo conobbe Eva sua moglie considera quando questo avvenne dopo la disobbedienza dopo la cacciata dal paradiso e benizio ciò che riguarda l'unione sessuale prima della disobbedienza infatti attenzione imitavano la vita angelica e non si parlava di nessuna unione sessuale cosicché dal principio e dall'esordio ebbe inizio ciò che attiene alla verginità ma allorché sopraggiunge sopraggiunse attraverso la spensieratezza la disobbedienza e procurò l'ingresso del peccato la verginità volò via essendo essi divenuti indegni di una tale grandezza di benefici sopraggiunse allora la regola dell'unione sessuale più chiaro di così in un altro passaggio delle omenie sulla Genesi quando spiega che l'unione sessuale per pochiare è concessione divina al genere umano diventato mortale il Crisostomo scrive Adamo dice conobbe Eva sua moglie ed essa avendo concepita partori Caimo allorché attraverso la disobbedienza sopraggiunse il peccato e il giudizio li rese mortali allora Dio ingegnoso amministrando secondo la sua sapienza la durata della stirpe degli uomini concesse che il genere umano si accrescesse attraverso l'unione sessuale quindi attenzione anche quando si dice adesso vedremo questo è un'obiezione che avrebbe fatto San Tommaso d'Aguino dice ma no ma se gli uomini hanno gli organi genitali è inammissibile pensare a una cosa di questo genere perché se ce l'hanno li avrebbero usati subito e questo è tutto da dimostrare questo qui perché chi può affermare che questa funzione degli organi genitali premesso il fatto che gli organi genitali hanno anche una funzione molto molto più feriale che tutti conosciamo però c'è anche insita questa ma secondo il Crisostomo e non solo lui questo Dio lo aveva fatto in previsione e attenzione secondo la lettura di Maria Valtorta questo costituiva l'oggetto della prova perché la prova sostanzialmente è stata diventare come Dio essendo gli uomini da se stessi arbitri del procreare questo è il punto fondamentale è una prova ma se tu non c'hai come dire la possibilità di non superare la prova fuori di metafora se non ci avessero avuto gli organi genitali ma come fanno ad essere messi alla prova non possono Dio si doveva mettere un'altra prova ma questa è stata la prova dell'uomo a quanto pare Eva disse ho acquistato un uomo per mezzo del Signore significato del nome Caino vedi come la pena sopraggiunta ha reso più saggia la donna infatti essa considera il bambino generato non tramite la natura ma attraverso Dio e mostra una senatezza conveniente hai visto come il castigo è diventato presso nella base dell'ammonimento eccetera infine stavolta dal Virginitate ci sono altri due passaggi abbastanza interessanti dopo aver disobbedito a Dio ed essere divenuti terra e cenere persero insieme con l'esistenza beata anche la bellezza della Virginità che li abbandonò per ritirarsi con Dio finché rimasero insensibili al diavolo e rivelirono il loro padrone anche la Virginità rimase ad adornarli più di quanto i diademi o le vesti d'oro facciano con i re ma quando divenuti prigionieri del diavolo dovettero deporre questa veste regale l'ornamento celeste attirando su di sé la corruzione propria della morte la maledizione i dolori e le fatiche della vita assieme a tutti questi mali sovraggiunse anche il matrimonio un abito mortale e degno di uno schiavo vedi qual è l'origine del matrimonio perché sembrò necessario esso deriva dalla disobbedienza dalla maledizione dalla morte dove c'è la morte lì c'è anche il matrimonio se la morte non c'è neanche il matrimonio sopravviene attenzione che qui quando usano il termine matrimonio non lo usano nel senso di ciò che Dio ha stabilito aborigine per questo l'uomo lascerà suo padre della sua madre ma lo usano come sinonimo di coniugio d'accordo ecco questa è la sintesi che quanto basti insomma per San Giovanni Crisosto ma anche se ci sono molte altre cose ma si vada poi a riascoltare la catechesi dove ho parlato di questo padre poi c'è San Giovanni Damasceno il grande San Giovanni Damasceno che risponde ad una obiezione dice ma come ma se Dio ha detto ad Amadeva crescete moltiplicatevi e riempite la terra e soggiocatela come fai a dire che non c'era l'unione coniugale nello stato di natura integra e lui risponde nel definito ortodoxo queste parole alcuni potrebbero chiedere che cosa significano dunque maschio e femmina e crescete e moltiplicate attenzione c'è anche maschio e femmina maschio e femmina perché maschio e femmina a ciò rispondiamo che il crescete e moltiplicatevi non indica esclusivamente la moltiplicazione dovuta all'unione coniugale Dio infatti avrebbe potuto moltiplicare il genere umano anche in un altro modo vedete come torna quest'altro modo se avessero conservato intatto per sempre il comandamento ma Dio per la propria prescienza poiché lui sa ogni cosa prima che accada sapendo che si avrebbero disubbiditi e sarebbero stati condannati a morire prevenendo questo li creò maschio e femmina e ordino loro di crescere e di moltiplicarsi e arriviamo a San Gregorio di Nissa che fu uno insomma dei più convinti assertori della tesi in sintesi la ricerca del piacere secondo San Gregorio di Nissa fu la causa della caduta la procreazione fisica è causa di morte non di vita e Dio prevedendo la caduta dell'uomo prevede un modo di generazione proprio delle bestie nell'ipotesi di Maria Valtorta queste affermazioni sono leggermente da modificarsi nel senso che siccome in quello che Maria Valtorta rivela il peccato originale è stato un fatto complesso ma terminante comunque nell'atto sessuale perché quello era il punto di arrivo allora non se più ma come dire già creando l'uomo immise nella creazione stessa dell'uomo questa possibilità perché questa costituiva l'oggetto della prova è una sfumatura però la sostanza non cambia allora scrive Sangreiro di Nisse anzitutto nella De Virginitate se il ritrovamento di ciò che si cercava significa il ritorno alla condizione primitiva dell'immagine divina che ora è nascosta dalla sporcizia della carne noi dobbiamo diventare quello che il primo uomo fu creato all'inizio della vita possiamo ritornare alla primitiva beatitudine ripercorrendo in senso inverso quello stesso cammino che portò fuori del paradiso quando ne vedimmo scacciati insieme al nostro progenitore e di quale cammino si tratta allora il piacere prodotto dall'inganno diede inizio alla caduta alla passione accesa dal piacere seguirono la vergogna la paura il non avere più il coraggio di stare al cospetto del creatore il nascondersi tra le foglie nell'ombra dopodiché essi si ricoprirono di pelli morte così furono mandati esuli in questa regione mazzana ed aspra nella quale il matrimonio fu concepito come un mezzo di consolazione di fronte alla morte e ancora qual è il risultato di ciò che si è detto lasciata la vita carnale che è necessariamente eseguita dalla morte dobbiamo cercare quella vita che non porta come conseguenza alla morte e questa è la vita della virginità quindi in quel testo piacere sensibile sembra essere molto vicino al piacere sessuale come nota anche l'autore la procreazione fisica continua sempre nel dei virginità nessuno se l'abbia male per queste mie parole è per gli uomini che causa non di vita ma di morte la corruzione infatti comincia con la nascita e qui c'è tutto quanto il tema sviluppato da Gregorio che la corruzione legato alla natura umana in quanto concepita in questo modo è riscattata dalla condizione di virginità che riporta in un certo qual modo la vita incorruttibile tra gli esseri umani e la prova di questo di nuovo cito come nel caso di Maria madre di Dio la morte che aveva regnato da Adamo fino a lei una volta raggiunta la urtò contro il frutto della virginità come contro una roccia e si consulse la Madonna non è morta non ha avuto in sé il principio della corruzione perché perché era immacolata e perché è rimasta vergine e l'antidoto contro il veneno della morte secondo Gregorio è la virginità l'augusta madre di Dio vergine libata nella sua divina maternità ottenne di essere preservata dalla corruzione del sepolcro e vinta la morte come già il suo figlio di essere innalzata in anima e corpo in cielo questo sarebbe stato scritto molto più avanti dalla munificentissimus Deus di Pio XII infine sempre di Gregorio di Nisse dal Deominibus Pificio questa volta Dio ha disposto per la natura una ragione di accrescimento conveniente per coloro che sono scivolati nel peccato al posto della nobiltà angelica inserendo nell'umanità un modo di generazione proprio delle bestie e degli esseri irrazionali è divenuto infatti bestiale colui che ha ricevuto nella natura questa generazione a causa dell'inclinazione verso la materia negli scritti cosa che non sarebbe che non sarebbe dovuta essere la generazione comincia ad essere per il polvere di Carmen e per il polvere di uomo e nascono figli di uomini non nascono più figli di Dio come erano Adam e Eva andiamo a San Zenone da Verona San Zenone da Verona San Zenone da Verona afferma chiaramente che il peccato originale fu la colpa sessuale ragionando sulla circoncisione che è un punto fondamentale questo è un altro dei punti fondamentali perché la Sacra Scrittura dà tutta quanto una serie di spunti di riflessione ma noi dobbiamo chiedersi ma ad Abramo fu chiesto Genesi 17 la circoncisione e Adamo si è circonciso pure lui e ha circonciso pure Lot se quando c'era ancora il giudaismo anche ai tempi di Gesù un pagano voleva diventare giudeo ebreo doveva essere circonciso pur se era 40 anni 50 anni non c'erano storie su questo qui e come mai un gesto così insomma a me mi fa inorridire insomma mi fa impressione io sono un po' suggestionabile ma perché questa cosa perché quel gesto su quel membro allora San Zenone grande vesco di Verona scrive Abramo portava insieme la figura di entrambi i popoli affinché il seno della circoncisione esprimesse il popolo giudeo e la giustizia della fede esprimesse il popolo cristiano aggiungi che questa circoncisione attenzione non tanto offre la salvezza quanto piuttosto indica il luogo e il punto di partenza del crimine crimine un criminale chi fa una cosa di questo genere noi abbiamo un'idea un pochino differente dei criminali infatti Adamo congliendo con questo membro cioè con l'organo sessuale il frutto proibito più chiaro di così introdusse il diritto della morte nel genere umano per necessità dunque Dio diede questo segno al popolo lussurioso affinché poiché indica chiaramente il luogo della colpa sessuale il popolo conosca anche gli altri crimini che sono da evitare più chiaro di così ora poi abbiamo un altro colosso della chiesa latina uno dei quattro padri della chiesa latina che è sant'ambrogio notissimo sant'ambrogio per la sua venerazione somma verso la virginità nell'exortatio ad virginitatem dice chiaramente che l'atto coniugale è qualcosa di estraneo che non doveva far parte dello stato naturale dell'uomo la giovinetta sfiorisce nell'uso coniugale e quando a lei si congiunge ciò che è estraneo e la perde ciò che è suo qui c'è tutta quanta la problematica connessa al fatto e il barontino lo nota che perdere la virginità per una donna vuol dire perdere anche il sigillo della virginità e accade in modo doloroso vero infatti è ciò in cui nasciamo non ciò in cui veniamo mutati ciò che abbiamo ricevuto dal creatore non ciò che abbiamo preso dal connubio quindi nella sacra scrittura questo lo nota il barontini c'è sempre una linea dove c'è sangue c'è sempre qualcosa che non va c'è sempre un qualche cosa che ha a che fare con il peccato ed è per questo che Gesù per la redenzione ha effuso fino all'ultima goccia di sangue ora ma può nostro signore in stato di natura integra prevedere per l'uomo e per la donna un atto che per la donna è dolorosa che la lacera interiormente cioè dinanzi a tutte quante queste cioè una delle bussole che deve guidarci in questa riflessione teologica su materia libera ci tengo questo sempre a sottolinearlo perché questo è semplicemente un tentativo di lettura nell'ambito dell'escito perché la Chiesa non si è mai pronunciata ancora su questo e attenzione come dirò anche alla fine se lo dovesse fare in un senso o nell'altro io fin da adesso aderisco a tutto quello che la Chiesa dovesse dire a riguardo e se è il contrario di tutto quello che ho detto è tutto quanto rinnegato come se non avessi detto neanche una parola ok quindi questo sia sempre ben chiaro però dobbiamo riflettere possibile che Dio nel creare prevede una cosa di questo genere gli esseri umani le loro condizioni di re del creato nobile divina e manteniamo sempre sullo sfondo perché sullo sfondo di tutto quanto questo discorso ci sono due realtà la verginità perpetua della Madonna che non è giustificata solo dice sai doveva essere il figlio di Dio quindi doveva nascere in maniera soprannaturale va bene e perché dopo che è nato in maniera soprannaturale no lo stesso e Gesù Gesù è diventato vero uomo dice una preghiera eucaristica del novus ordo ha condiviso in tutto eccetto il peccato la nostra condizione umana in tutto eccetto il peccato e se Gesù si fosse sposato regolarmente quale problema ci sarebbe dovuto anzi come mai non ha voluto condividere questa esperienza degli esseri umani se in fondo in fondo non c'è niente di male né nell'esperienza in sé né nel ricordo dell'esperienza perché nel matrimonio così come oggi noi lo conosciamo nel sacramento non c'è il male in sé stesso ma aborigine sono tutte quante domande queste sono domande lecite non sono domande di curiosità perché sono domande che aiutano a comprendere la realtà che si aggira dentro questa problematica Sant'Ambrogio non è finito qui scrive anche nel De Penitencia un passaggio che aiuta anche a capire a leggere uno dei passi biblici rilevanti per la nostra trattazione cioè il prologo del Vangelo di Giovanni dove si parla dell'uomo che è generato il figlio di Dio è generato non da carne né da volere di carne né da sangui né da volere di uomo cosa sono questi sangui scrive Sant'Ambrogio nel De Penitencia l'apostolo fedele interprete dice Dio mandò il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato e in vista del peccato ha condannato il peccato nella carne perché la giustizia non dice assomiglianza della carne perché Cristo ha assunto la realtà della carne umana non la parvenza né dice assomiglianza del peccato già che egli non ha commesso peccato ma ha preso le semiglianze del peccato per la nostra salvezza ok salto un pochino non era stato infatti generato come gli altri uomini dall'accoppiamento del maschio e della femmina concepito dallo Spirito Santo e dalla Vergine aveva assunto un corpo mortale non solo non macchiato da alcuna colpa questo l'aveva assunto anche la Madonna anche la Madonna ha assunto un corpo mortale non macchiato da alcuna colpa però è stata concepita umanamente Gesù no aveva assunto un corpo mortale non solo non macchiato da alcuna colpa ma neppure sfiorato da quell'ignominioso miscuglio di sostanze proprie proprio della nascita o del concepimento miscuglio di sostanze i sangui che come notò l'autore anticamente sangue bianco era il seme maschile sangue rosso era ciò che oggi chiamiamo noi l'ovulo femminile quindi la modalità di generare tramite coniugio evidente che è intrinsecamente legata al peccato originale e lo trasmette per questo che è stato concepito da una vergine proprio dello spirito santo e attenzione per questo l'immacolata concezione della Madonna che lei non è stata esente dal miscuglio di queste sostanze ignominiose come le chiama Sant'Ambrogio e per questo Dio ha dovuto fare un miracolo è per questo che la dottrina dell'immacolata concezione è stata da qualcuno contrastata nel corso della storia perché ammettere l'immacolata concezione vuol dire affermare che il concepimento della Madonna è stato durante il concepimento della Madonna è avvenuto un miracolo proprio un miracolo in senso stretto e come ha spiegato poi Pio IX il beato Pio IX nella bolla con cui ha dichiarato la Madonna Immacolata in Fabi di Steus 1854 questo avvenne in vista dei meriti di Cristo quindi è una forma di redenzione come si dice tecnicamente preservativa quindi è venuta prima ma comunque è stato un miracolo altro grande padre della Chiesa San Girolamo anche lui afferma la verginità è lo stato di natura senza nessun dubbio le nozze sono venute dopo il peccato e questo lo afferma nelle lettere leggo restualmente perché poi ti persuada che la verginità è lo stato di natura e che le nozze sono venute dopo il peccato ricordati che la carne nasce vergine dalle nozze restituendo così nel frutto quel che aveva perduto nella radice lettere ancora e stravolta nell'adverso Siovinianum sulla base delle leggi vetero-testamentarie e qui cita dei passi che poi vedremo quando andremo a fare la rassegna sulla saga scrittura per esempio Esodo 19 10-15 San Girolamo afferma che l'incompatibilità tra l'unione carnale è il culto dato a Dio non sorprende cito questo riguardo all'amico e profeta legislatore di Dio quando tutto il popolo stava per accostarsi al monte Sinai nell'esodo si parla del momento in cui il popolo doveva accostarsi al monte per ricevere i dieci comandamenti Mosè ordinò loro di purificarsi per tre giorni e di astenersi dalle mogli dovevano ricevere una cosa importante da parte di Dio purificatevi per tre giorni astenendovi dalle mogli e perché? mica sto commettendo ad ulterio cosa che sappiamo altro episodio citato è lecito che io possa mischiare confusamente l'ordine della storia che il sacerdote Achimelech disse anche a Davide che fuggiva altro passo fondamentale dell'Antico Testamento Davide c'aveva fame chiede da mangiare al sacerdote questo non c'aveva altro che i panni della proposizione questo è Primo Samuele 21 1-7 dice guarda che sono tanti panni sono tanti panni consegrati a Dio e li potete mangiare vi siete almeno astenuti dalle donne e lui dice sì siamo partiti io prima che partiamo faccio sempre astenere i miei soldati dalle mogli e allora glieli fa mangiare infatti scrive San Girolamo cito non potevano mangiare i panni della proposizione quasi come il corpo di Cristo appena alzati i sitaretti delle mogli d'accordo infine San Girolamo afferma una intrinseca correlazione tra congiunzione carnale e corruzione e verginità e incorruttibilità scrive questo è talmente chiaro che con nessuna spiegazione può diventare più evidente sempre nell'adversum iovignanum la carne dice il sangue non possono possedere il regno di Dio né la corruzione e l'incorruttibilità se la corruzione appartiene ad ogni congiungimento carnale l'incorruttibilità appartiene in senso proprio alla virginità castitas e le nozze non possono possedere i premi della pudicizia quindi per San Girolamo sembra chiaramente che sia proprio adatto coniugare in se stesso l'elemento legato alla corruzione proprio perché posto in essere dal peccato di origine e anche se San Girolamo non fa nessun riferimento esplicito a un possibile compimento a un possibile coinvolgimento dell'atto stesso nel peccato originale stesso non è del tutto fuori luogo in qualche modo pensarlo o supporlo poi abbiamo il primo Agostino prima che cambiassi idea il primo Agostino dice chiaramente che prima del peccato originale l'unione tra l'uomo e la donna era solo spirituale nelle Genesi contra Manicheos scrive testualmente Dio disse crescete moltiplicatevi procreate riempite la terra è da intendersi in senso carnale o in senso spirituale senza dubbio c'è lecito intenderla anche in senso spirituale in modo da ritenere che dopo il peccato fu molto verosivilmente trasformata in fecondità carnale vedete come Sant'Agostino il primo Sant'Agostino è perfettamente in linea con la tradizione patristica sarebbe stato spirituale diventa carnale in conseguenza del peccato d'origine ancora sempre il primo Agostino nel De Bono Coniugali afferma che l'unione fisica può essere propria solo dei corpi mortali e questo dice l'unione fisica può essere propria solo dei corpi mortali De Bono Coniugali leggiamo il testo non è necessario a questo punto che noi analizziamo e risolviamo il problema di come sarebbe potuta nascere la prole dei primi esseri umani se questi non avessero peccato Dio le aveva benedetti con le parole crescete moltiplicatevi e riempite la terra ma l'unione fisica non può essere propria che dei corpi mortali e la condizione mortale i loro corpi la meritarono appunto con il peccato se Sant'Agostino si fosse fermato qui probabilmente avremmo scritto un'altra storia della teologia prima di passare al secondo Sant'Agostino vediamo l'ultimo padre che si sta in perfetta sintonia appunto con quattro punti che abbiamo visto e che è Massimo il confessore San Massimo il confessore San Massimo il confessore è un altro grande testimone di questa linea la volontà di Dio era che noi non fossimo generati dalla corruzione attraverso il matrimonio scrive nelle questioni e dubbia testualmente cito domanda cosa vuol dire che nell'iniquità sono stato concepito e nei peccati che ho concepito mia madre risposta il fine principale di Dio era che noi non fossimo generati dalla corruzione attraverso il matrimonio la trasgressione del comando introdusse il matrimonio attraverso la violazione di Adamo questo significa aver trasgredito la legge che Dio aveva dato perciò tutti quelli nati da Adamo vengono concepiti nell'iniquità e cadono sotto la condanna del progenitore e nei peccati mi ha concepito mia madre significa che Eva che è la prima madre di tutti noi concepì il peccato attenzione come desiderosa del piacere questo è un punto che troveremo esplicitamente affermato nei scritti di Maria Valtorta cioè che Eva cominciò con la superbia poi con l'avarizia poi con la gulla spirituale e poi terminò nel piacere lussurioso che dapprima si diede da sola e poi presentò al marito al marito ad Adamo che in quel momento divenne il marito ancora il peccato di Adamo mosso dal piacere di nuovo istituì un altro principio di generazione attenzione qui San Massimo si avvicina moltissimo a quello che dice Maria Valtorta leggo il testo Dio dunque in verità si fece uomo qui siamo nelle questione Satalassium e diede un altro inizio alla natura con una seconda generazione a causa della pena per una vita futura che metterà fine al piacere poiché infatti il primo padre Adamo allorché trasgredendo il comando divino avendo istituito un altro principio della generazione proveniente dal piacere introdusse a causa della pena la morte che mette fino all'ordine naturale contro la prima natura e comprese seguendo il consiglio del serpente che il piacere non è una conseguenza della pena ma piuttosto conduce verso la pena tutti quelli generati da lui nella carne in quel modo ingiusto mediante l'ingiusto inizio proveniente dal piacere ebbe giustamente come risultato che quelli generati da lui gli vennero tolti con la morte a causa della pena e infine negli Ambigua afferma esplicitamente che c'era ci doveva essere un altro modo di generazione deciso da Dio senza il peccato e certamente dopo aver dato inizio muovendo dalla divisione che è in noi all'unificazione generale di tutte le cose in se stesso si fa uomo perfetto il verbo evidentemente per caso di noi provenendo da noi e come noi avendo tutte le nostre caratteristiche in modo completo tranne che il peccato senza aver avuto assolutamente bisogno per questo scopo della successione naturale prodotta da le nozze insieme e contemporaneamente mostrando quindi Cristo nel suo modo di nascere io credo che vi era forse anche un altro modo deciso da Dio precedentemente perché gli uomini crescessero e si moltiplicassero vedete che in questo punto San Massimo il Confessore sta perfettamente sul socco di Sant'Adanasio di San Gregorio di Nissa e di San Giovanni Crisostomo che parlano esplicitamente di questo altro misterioso modo di generare io direi che sarebbe meglio fermarsi qui perché il prossimo step è andare a vedere il set contra cioè che cosa è successo invece con la linea che parte da Clemente Alessandrini e passando per Sant'Agostino arriva a San Tommaso anche perché su San Tommaso dovremo spendere qualche parola dopodiché vedremo la Sacra Scrittura una sintesi e dopo rifaremo una carrellata su Maria Valtorta traendo le conclusioni spero che basti un'altra puntata perché sono andato più lento del previsto non vorrei che queste conclusioni sintetiche se ne volessero tre spero di no però come Dio vuole ci vediamo se ti vuole alla prossima puntata che vi benedica e la Madonna sempre vi protegga che vi benedica che vi benedica che vi benedica